In molti avevano temuto per il futuro dell'ospedale Val Vibrata di Santomero quando due mesi fa in una caldissima assemblea vennero annunciate le chiusure di quattro reparti ed il dislocamento degli addetti negli altri ospedali della provincia terramana. A settembre però pediatria, ostetricia, ginecologia ed ortopedia ripartiranno insieme alla probabile istituzione di un polo della riabilitazione motoria. Ad annunciare la notizia il presidente dell'Unione dei Comuni Città-Territorio della Val Vibrata nonché sindaco di Santomero Alberto Pompizzi. La ristrutturazione del nosocomio della Val Vibrata che serve una popolazione di circa 80.000 abitanti in crescita durante il periodo estivo dunque è entrata nella seconda fase. Arriveranno a Santomero anche nuovi primari di livello provenienti dalla Asla Aquilana e accreditati dal direttore terramano Giustino Varrassi. In lizza anche l'acquisto di una risonanza magnetica di ultima generazione i cui costi però al momento sembrano insostenibili a meno che l'utenza non cresca nel giro di poco tempo.